6 agosto 1985, ero qui nel mio ufficio di sindaco quando mi giunse la notizia della uccisione di Nini Cassarà e di Roberto Antiochi. Mi precipitai in via La Croce Rossa e lì, davanti al cadavere di Nini Cassarà e di Roberto Antiochi, in una pozza di sangue, mi toccò di vedere anche il volto di Natale Mondo che si era salvato da quella terribile strage che sarebbe poi stato colpito dalla mafia che non ha dimenticato che anche Natale Mondo era un poliziotto che serviva alle istituzioni. Oggi è un tempo nel quale gli uomini e le istituzioni si sforzano di non essere collusi, oggi è un tempo nel quale la mafia non governa questa città ma esiste ancora, ricordare il sacrificio di Roberto Antiochi, di Nini Cassarà e di Natale Mondo è un modo per avere fiducia domani nello Stato che rispette i valori costituzionali e garantisce un ordinato svolgimento della vita civile e democratica.